E anche in questo lunedì apriamo la nostra finestra sulle municipalità e sulle loro realtà con il concetto nostro appuntamento osservatorio speciale. Facciamo quindi il punto della situazione della sesta municipalità che amministra l'area orientale del capoluogo campano, quindi Barra, Punticelli e San Giovanni a Teduccio in compagnia proprio del suo presidente Sandro Fucito. Buongiorno a tutti. Ecco, la valorizzazione delle risorse sociali e territoriali passa per delle iniziative importanti con alcuni enti, con altri enti, come le collaborazioni che voi state attuando proprio con le università. Quali sono i prossimi disegni per la vostra municipalità? Guardi, proprio pochi giorni fa noi abbiamo deliberato come consiglio un atto al quale abbiamo lavorato insieme all'università, al Dipartimento di Scienze della Mobilità in particolar modo, per le misure del quartiere 15 minuti. Siamo l'unico ente territoriale di riferimento, questo è un motivo di privilegio, tutti guardano la zona orientale, che cosa cerchiamo di fare? Noi sosterremo delle proposte che vadano dentro un ragionamento condiviso con un tavolo di esperti composto dalla università, da chi si occupa di sharing, dalle scuole e tanti altri soggetti operativi. E queste proposte ci aspettiamo che abbiano un sostegno, un parere, uno studio di fattibilità della università e che quindi siano più forti. Faccio un esempio, un territorio vasto ha mezzi di trasporto che partono da quel territorio e forse un domani vi ritornano perché entrano nella città che è molto densa di traffico. Quindi la mobilità all'interno di 20 chilometri quadrati, dove vivono 100.000 persone, non è assicurata, non è prevedibile. I ragazzi non possono andare nella scuola superiore salvo non essere accompagnati dai genitori con l'auto. Un disastro. Noi proporremo un piano articolato di navette insieme alle scuole che ci indicheranno lo studio dei vettori che loro hanno fatto, migliaia di lavoratori che devono muoversi dentro quel territorio e ci aspettiamo che questo piano, perché anche sostenuto dalla università, passi. Primo punto. Noi proponiamo l'utilizzo degli spazi, anche scolastici, insieme alle scuole, per le attività sportive, ricreative, culturali, di territorio, perché non ci si debba spostare per forza per vivere. Queste richiederanno delle ereroghe, delle nuove iniziative del comune o del provveditorato. Ci aspettiamo che, poiché magari alla municipalità si può non dare peso, cosa grave e sbagliata, di farlo insieme allo studio dell'università e quant'altro. Tutto nell'ottica della vivibilità di territorio, dei servizi in prossimità del cittadino, del miglioramento non solo della qualità ambientale, cosa fondamentale, ma della vita, dei tempi di raccordo, di conoscenza, di lavoro. No, perché questo sappiamo che nelle città limita proprio la qualità della vita e anche il reddito delle persone per i costi derivanti da trasferimenti inutili, oziosi e, come dire, ambientalmente pesanti per la qualità dell'aria. Ecco, continuiamo proprio su questa scia della formazione. Non possiamo non menzionare la nascita del polo di educazione con il metodo montessoriano, unico tra l'altro. In Campania, sì, sì. Di cosa si tratta? Sia ben chiaro, noi università, progetti, PNRR, Montessori, per avere poi un domani, nel frattempo combattiamo sui rifiuti, la raccolta inferenziata, le strade, le buche. Non è che stiamo cercando di amministrare una municipalità con progetti di qui a dieci anni. L'uno e l'altro. Progetto montessoriano, questa città poco sa, probabilmente, che è in quel di San Giovanni a Teduccio, che è giunto al terzo anno di sperimentazione alla Scialoia Cortese, grande dirigente scolastica Rossella Stornaiolo, il progetto di adesione al metodo montessoriano, cioè l'insegnamento in cui i ragazzi sono liberi da regole costrittive, nella capacità di scegliere, entro un quadro ovviamente di regole ispirate a Montessori, e possono, come dire, vivere l'ambiente scolastico, l'insegnamento, lo studio e l'azione di quello che fanno dentro questi principi di libertà. Ma qual è la novità? Che giunti al terzo anno, gli unici in Campania, dall'anno prossimo cercheremo di fare un polo che nasce dal nido, avrà le elementari e le medie. Quindi per i prossimi dieci anni si cercherà di fare in modo che i ragazzi, quelli di Pazzigno, di San Giovanni, quelli che hanno più bisogno e interesse nello stare a scuola, lì le famiglie chiedono che i ragazzi stiano più tempo a scuola, non fuori scuola. Sono scuole nelle quali c'è l'agricoltura nel cortile, ci sono gli incontri estivi con le famiglie, la scuola è aperta a Natale per le attività che svolgono, insomma siamo in una dimensione di impegno eroico degli operatori scolastici. Ebbene, cosa avviene? Avverrà che ci sarà questo metodo che inizierà già dal nido, che prevede un principio di approccio diverso con la cosa pubblica, di consapevolezza, di libertà. Sono studi scientifici molto importanti e qualificati, che non riesco ora ovviamente a sintetizzare in pochi minuti, però è il principio dell'autodeterminazione del bambino, dello studente nella scuola, in un quadro di scelta, di scarsa costrizione, di valorizzazione della iniziativa e dello spirito di creatività di ciascuno. Ci confidiamo per un domani diverso, anche per occhi diversi in quel territorio. Come sta continuando l'opera di dimensionamento anche scolastico, provvedimento che coinvolge proprio i suoi cittadini e i suoi istituti? Ma è sostanzialmente un disastro nazionale, pochi sanno che la Campania perderà centinaia di dirigenti scolastici, il Piemonte 3, sono i primi regali dell'autonomia differenziata, perché si tratterà di avere una scuola ancora più disagiata di quella che è adesso. Noi ci abbiamo impiegato 30 anni per avere il tempo pieno, che era garantito al nord, tranquillamente, dove magari andavano a insegnare anche coloro che si erano laureati al sud, viva l'Italia unita, adesso avremo, come dire, più tagli nelle dirigenze scolastiche al sud ed a Napoli. Le prime le abbiamo fronteggiate, ora non si tratta, voglio dire, noi stiamo in un disastro, abbiamo cercato di fronteggiarle secondo logica, e quindi credo che ci si sia riusciti, non spacchettando gli istituti, creando delle filoni, come dire, che avessero una loro logica, una continuità territoriale, una valorizzazione di mettere insieme le elementari, le medie, fare dei poli unici, eccetera, eccetera. Però ecco, si resiste su un terreno negativo, perché, poi, la cosa incredibile è che arrivano più fondi per il PNRR, più fondi per le attività, più progetti, quindi si suppone che ci siano più figure a coordinarla, e no, meno perché si fa il dimensionamento. Una follia, ma ecco, fa parte di questo tempo storico, come dire, in cui persone che non conoscono la realtà sono chiamate a fare le leggi, quindi, per carità, si amministra la realtà conoscendola, se uno non la conosce è difficile. Noi la ringraziamo veramente per essere stato in nostra compagnia stamattina, Mattina Live, quindi ringraziamo il Presidente della Sesta Municipalità di Napoli, Sandro Fucito. Pubblicità a tra poco con Mattina Live. Grazie a voi. Grazie a voi.